Musica 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 Molto commovente, a tratti distruttivo. Per me questo film rappresenta tre caratteristiche fondamentali che ritrovo sia nella vita che nell'arte in generale. La verità, il dolore, l'essenza della vita e del non vivere soprattutto. L'aspetto che più mi ha colpito penso sia la parte iniziale di tutti i giovani con le speranze, i dolori e le gioie aspettative. Le idee posso dire che è un film molto potente di una grande cineasta che è arrivata al massimo della sua espressione. Un grande film sul teatro, sulla vita. Grazie a tutti i miei amici che sono venuti stasera a vedere il film. Emocionante, divertente e molto molto profondo. Non so perché, mi ha molto emozionata. Il film mi ha colpito per diversi motivi. La naturalezza con la quale è stata rappresentata uno spaccato di una generazione è uno di quelli. E sicuramente questo è dovuto alla scelta degli attori e degli attrici. È un film bellissimo, bellissimo. Perché c'è il teatro, c'è il cinema e non è facile riuscire a incastrarli in questo modo. Sono rimasta piacevolmente colpita, soprattutto per quanto riguarda la protagonista, Stella. Fa capire ai ragazzi appunto cosa mostrare, che emozioni dare in quel momento. È stata veramente micidiale. Grazie a tutti i miei amici.